bentornati oggi voglio farvi vedere come si realizzano i trittici o le immagini combinate per instagram cominciamo col prendere il nostro strumento rettangolo teniamo premuto il tasto shift e tracciamo un quadrato più o meno di queste dimensioni a questo punto quello che andiamo a fare è che selezioniamo lo strumento sposta e tenendo premuto il tasto alte shift andiamo a duplicare il nostro quadrato vedete che si aggancia automaticamente lo facciamo un'altra volta sempre alte shift premuti e abbiamo ottenuto tre quadrati messi di fianco uno all'altro e già attaccati tra di loro a questo punto li selezioniamo tutte e tre cliccando sul primo e cliccando poi sull'ultimo tenendo premuto shift andiamo a impostare un riempimento basso così riusciamo a vederci attraverso a questo punto prendiamo premiamo command t in questa maniera possiamo trasformare i tre oggetti insieme andiamo a ridimensionarli in maniera tale da includere tutto quello che vogliamo prendere dentro nella nostra foto dentro nei nostri dettagli a questo punto gli diciamo ok andiamo adesso a impostare un riempimento pari a zero perché noi non vogliamo vederli quadrati poi sull'immagine finale a questo punto quello che andiamo a fare è che premiamo il tasto command sulla miniatura del nostro del primo quadrato vedete che il nostro quadrato viene selezionato a questo punto se noi selezioniamo lo strumento taglierina abbiamo già selezionato con la taglierina il frame che volevamo è sufficiente premere invio dopodiché possiamo salvare la nostra immagine la chiamiamo 1 e andiamo a salvarla come jpeg con qualità alta a questo punto a questo punto siamo in questa situazione per cui la prima cosa che dobbiamo fare è un bel paio di command z anzi command alt z per tornare indietro di due passi eliminiamo la selezione dal primo quadrato torniamo sulla miniatura del secondo quadrato teniamo premuto command e selezioniamo il secondo quadrato a questo punto riprendiamo lo strumento taglierina gli diamo invio due volte e siamo pronti a esportare il secondo frame e gli diciamo nuovamente salva lo chiamiamo 2 e questa volta lo chiamiamo jpeg 2 a questo punto ripetiamo esattamente la stessa cosa facciamo command alt shift due volte eliminiamo la selezione andiamo a selezionare l'ultimo quadrato teniamo premuto command per rilevare la selezione prendiamo la taglierina gli diamo invio e siamo pronti a salvare l'ultimo frame e lo chiamiamo jpeg 3 questi tre frame andranno poi a essere caricati su instagram nell'ordine in cui li abbiamo salvati in maniera tale che poi l'immagine complessiva ci restituisca esattamente la panoramica che volevamo